Prima l'ok della Covizoc alla documentazione presentata per iscriversi al prossimo campionato di Serie C, poi le prime ufficialità. Agenda della prima decade di luglio, Chiara in casa Taranto, il club ionico al ritorno tra i professionisti dopo quattro anni di assenza, ha atteso prima l'esito positivo del pronunciamento dell'ente di vigilanza del calcio professionistico per poi poter lavorare con la mente sgombra sull'immediato futuro. La base è nei fautori del progetto tecnico che un anno fa di questi tempi muoveva i primi passi di un cammino promozione concluso con successo grazie al blitz di metà giugno in casa del Lavello. Si riparte in panchina da Giuseppe La Terza per il quale è pronto un accordo biennale. Il 42enne che in sei anni aveva costruito un piccolo miracolo a Fasano portando la squadra dalla promozione alla Serie D, si prepara a vivere il suo primo campionato di C da guida tecnica. Per farlo in maniera adeguata occorrono garanzie sul piano della costruzione della squadra, quelle che dovrà assicurare in proporzione al budget messo a disposizione dalla proprietà il DS Francesco Montervino. In questi giorni e già al lavoro a Milano, anche l'ex capitano del Napoli sarà blindato così alla guida dell'area tecnica. Tra i suoi primi compiti quello di provare a trattenere i gioiellini under su tutti i DAB richiesto da club di C e di categoria superiore. L'idea guida sarà quella di costruire la squadra su 5-6 calciatori di esperienza, identikit che porta a Pambianchi della Virtus Francavilla, Murolo della Carrarese e Bolzoni del Bari, obiettivi per difesa centrocampo, ai quali sommare i migliori prodotti della scorsa Serie D e del campionato primavera. In quest'ottica vanno registrati l'accordo con la mezzala dell'Avello Longo che firmerà un biennale e i sondaggi per i suoi compagni di squadra Burzio e Liurni. In via di definizione anche l'operazione per il camerunense Jonathan Gok Italeng, attaccante del 2001, reduce da un'esperienza con la primavera dell'Atalanta. Continuità e rinnovamento, due traiettorie convergenti per il Taranto che verrà.